Inter Roma due a zero, l'Inter vince contro José Mourinho al ritorno a San Siro per la prima volta contro l'Inter e l'Inter si qualifica quindi alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Milan Lazio. Una vittoria molto molto importante per l'Inter perché ci permette di ripartire subito dopo la sconfitta nel derby dimostrando ancora una volta il carattere di questa squadra come aveva già fatto dopo le precedenti sconfitte. Quattro volte l'Inter è stata battuta all'interno di questa stagione tra tutte le competizioni, quattro volte l'Inter è ripartita subito dopo con una vittoria ed è sicuramente una considerazione molto molto importante da questo punto di vista. In questo episodio di oggi volevo condividere con voi alcune riflessioni aggiuntive sulla partita tra Inter e Roma in maniera molto veloce per poi andare a parlare invece dei singoli delle prestazioni dei giocatori scesi in campo nell'Inter con il nostro nuovo format delle pagelle con il tier maker che avete molto molto apprezzato e spero quindi che apprezzerete anche oggi. Prima di partire vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto cliccate subito sul tastino iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri nuovi contenuti e neanche una delle nostre dirette ogni giorno alle 19.30. Detto questo Inter-Roma che partita è stata? Come dicevo è stata secondo me una buona partita sicuramente da parte dell'Inter ci aspettavamo mi aspettavo soprattutto come prima cosa la cosa più importante una reazione da parte dell'Inter e la reazione di fatto c'è stata. Favorita sicuramente devo dire da una Roma che mi ha sorpreso in negativo devo dire la verità soprattutto in termini di organizzazione della fase difensiva da una vecchia volpe come José Mourinho non mi aspettavo una Roma così disorganizzata in tanti momenti è vero che poi durante la gara ha portato degli accorgimenti ma non ho visto veramente una Roma da Mourinho o almeno non da quel Mourinho che abbiamo imparato a conoscere noi negli anni e non solo all'Inter. L'Inter oltre ad averla sbloccata subito con una grandissima azione tra l'altro nella prima parte di gara secondo me è stata di fatto dominante abbiamo visto un'Inter anche molto bella da vedere ha conferma ancora una volta che i problemi secondo me non sono tanto di manovra offensiva di costruzione del gioco e di equilibri quanto appunto di finalizzazione anche ieri ovviamente abbiamo visto un'Inter che ha creato tanto e prima di arrivare al gol anzi dopo il gol di Dzeko questa volta arrivato subito ma prima di arrivare al raddoppio ci ha messo veramente troppo per quelli che sono un po' gli standard a questi livelli e nella fase centrale in cui i ritmi si sono un po' abbassati l'Inter ha cercato anche di controllare la gara ecco lo spettro di un'altra possibile beffa stile derby si poteva materializzare eh però concretamente devo dire che non ho mai avuto troppa paura di veder scappare via la partita e a differenza del derby poi gli episodi hanno girato bene questa volta e quindi poi siamo riusciti a raddoppiare a portarla a casa. Tra le note positive di questa gara sottolineo sicuramente eh il clean sheet finalmente non abbiamo subito gol nel duemilaventidue era successo solo contro l'Atalanta per il resto in tutte le altre partite abbiamo sempre subito almeno un gol e quindi questa è già un'indicazione molto importante. in generale credo tra l'altro che al di là di qualche prestazione individuale non eccelsa di cui parliamo tra poco eh ribadisco quello che avevo detto qualche settimana qualche settimana fa questa Inter secondo me può permettersi di far ruotare due o tre titolari con alcune eh seconde linee in campo senza perdere di efficacia e anche contro la Roma secondo me si è visto. È vero che la Coppa Italia ti toglie magari qualche pressione però è comunque una competizione importante e un test da non solo sottovalutare visto che tra l'altro superato il mese di febbraio come dicevamo il calendario metterà l'Inter di fronte degli avversari sulla carta più alla portata. Eh per chiudere e per passare poi alle nostre valutazioni sui singoli vedo e ho visto che già tanti si strappavano i capelli ed erano disperati dopo la sconfitta nel derby una sconfitta che secondo me ha maggior ragione dopo quello che abbiamo visto contro la Roma si può definire episodica. episodica ecco io invito però sempre a rimanere molto focalizzati sul presente a non farsi prendere eh troppo dal tifo e a guardare bene la situazione in maniera oggettiva oggi la situazione in maniera oggettiva dice che l'Inter è in semifinale di Coppa Italia agli ottavi di Champions prima in classifica in campionato ha già vinto la Supercoppa e sul petto c'è uno scudetto cucito quindi analizziamo sempre le cose in maniera razionale non disperiamoci eh inutilmente e adesso andiamo a vedere le nostre pagelle allora con il tier maker andiamo a vedere le valutazioni eh dei calciatori dell'Inter scesi in campo in questo quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma partiamo da Samir Andanovic andiamo con ordine su Samir Andanovic ne aveva già parlato anche il nostro Simone Frizza l'avevamo già detto più volte eh è uno di quei giocatori a differenza di altri come andremo a vedere tra poco che non si possono mai criticare probabilmente è un nervo sempre un po' scoperto tanti si arrabbiano se tocchi eh appunto Samir Andanovic la prestazione di ieri per me è stata positiva di Andanovic è stato in alcuni momenti anche eh decisivo con un paio di interventi soprattutto eh su Zaniolo e su Sergio Oliveira ma in alcuni momenti sinceramente mi ha dato anche delle impressioni di incertezze quelle classiche incertezze che ormai conosciamo benissimo di Samir Andanovic che non mi hanno convinto molto quindi sinceramente non lo metterei molto più su di un ok visto che è stato salvato poi in alcuni momenti da un fuorigioco di Zaniolo ma anche da un grande intervento eh di Skriniar oltre che da un fallo subito eh dalla difesa su un'uscita a vuoto e la traversa di Tami Abram eh Danilo D'Ambrosio a me D'Ambrosio è piaciuto molto devo dire ragazzi eh se quindi metto Andanovic sull'ok io sinceramente D'Ambrosio lo metto addirittura top so che magari molti di voi non saranno d'accordo però eh io sono molto contento della prestazione che ha fatto Danilo D'Ambrosio che è stato eh prontissimo ancora una volta chiamato a scendere in campo eh per sostituire uno dei titolari De Frai non in un grandissimo eh momento ma si è fatto trovare pronto e ha risposto presente contro avversari che potevano essere sulla carta molto molto scomodi ed è secondo me una prestazione incoraggiante in vista anche delle prossime gare in cui appunto mancherà Alessandro Bastoni che ha avuto anche questo problema eh fisico Bastoni quindi io lo piazzo eh sull'ok non ha avuto molto tempo per dimostrare molto durante eh questa partita un problema alla caviglia tra l'altro ha già svolto esami eh medici che hanno escluso lesioni non è un infortunio troppo grave si farà un tentativo per riaverlo già contro il Liverpool nella gara d'andata anche se non è semplice e sappiamo poi che tra l'altro a causa della squalifica post derby salterà le gare contro Napoli e Sassuolo in campionato mi è piaciuto tantissimo Screener e anche lui si merita una posizione tra i top quasi tendente al all MVP perché è partito da centrale si è dovuto poi disimpegnare anche sul centro-sinistra ha di fatto annullato Tami Ibram e comunque in generale ha realizzato anche degli interventi decisivi come uno su tutti eh quel tiro che aveva battuto Andanovic che era uscito fuori dall'area di rigore ed è stato un intervento sulla linea che vale molto più di un gol perché eh era tra l'altro anche molto 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 difficile intervenire e portarla fuori eh dallo specchio della porta quindi grande prestazione di Milan Screener mi è piaciuto veramente molto. Matteo Darmian prestazione non mi ha convinto tantissimo Matteo Darmian lo metto tra i rimandati ma non con un'insufficienza secondo me un un sei meno eh anche se devo dire che nel primo tempo parecchie imprecisioni frutto comunque che si inseriscono anche in un contesto di un periodo non eccelso secondo me di Darmian e lo dico da grandissimo estimatore come sapete sono uno dei primissimi difensori di Darmian fin dal suo arrivo all'Inter e però non sta vivendo un grandissimo momento la nota positiva però che nel secondo tempo secondo me è cresciuto molto e e quindi sta riacquisendo condizione sono convinto che già dalla prossima migliorerà per oggi gli do un sei meno e lo metto leggermente sotto ovviamente strettamente personale Nicolo Barella ragazzi prestazione mostruosa mostruosa io mi sento di metterlo addirittura tra gli MVP perché eh ho sempre questa voglia anche di riscattarmi dopo che qualcuno magari si è espresso troppo in fretta e ha lanciato eh delle critiche gratuite nei confronti di un Barella che improvvisamente è finito al centro eh delle discussioni con molti che hanno cominciato a mettere in dubbio anche il valore di questo calciatore che ieri ha fatto una prestazione prestazione totale e ci ha dato la purtroppo ci ha dato eh un'indicazione di quanto peserà la sua assenza contro il Liverpool nel doppio turno di Champions appunto visto che sarà squalificato prestazione veramente totale a tutto campo per novanta minuti di fatto che è stato in campo eh è sempre stato l'uomo ovunque di quest'Inter e avrebbe meritato un gol che ha cercato con insistenza sta crescendo molto anche nelle conclusioni della distanza un qualcosa sul quale sicuramente Inzaghi ha lavorato sta lavorando già dalla prima parte di stagione in cui l'avevamo commentato stiamo vedendo un Barella più coinvolto alla conclusione prestazione veramente super ma è già da qualche partita che Barella è tornato a crescere di rendimento e quindi sono molto molto contento della sua prestazione non benissimo invece secondo me Marcello Brozovic qualcuno lo ha anche bocciato è vero che Brozovic fa sempre un lavoro preziosissimo in mezzo al campo però io non l'ho visto ecco nella sua miglior versione durante questa gara contro la Roma anzi per larghi tratti pur non essendo marcato in maniera asfissiante da un Mkhitaryan che è stato anche un po' pigro nella marcatura nei confronti di Brozovic in alcuni momenti si è assentato dal gioco in alcuni momenti ho visto il centrocampo dell'Inter ecco non essere dominante lì in mezzo non avere il controllo dei ritmi del gioco e della partita questa è stata un po' la mia sensazione lo metto con un rimandato non una bocciatura grave sinceramente sicuramente metto un piano sotto Arturo Vidal che comunque non è stato negativissimo nemmeno lui anche lui direi nei miei voti lo metto appena sotto la sufficienza non di molto sinceramente sono rimasto deluso da quello che è stata un po' la condizione fisica che ha dimostrato in campo mi aspettavo un Vidal dopo una sosta in cui ha avuto l'opportunità di lavorare molto ad Appiano un Vidal più tirato a lucido anche perché ce lo aspettiamo in campo chiaramente contro il Liverpool ma a questo punto non so appunto se sarà lui effettivamente la scelta questo lo scopriremo diciamo che nel momento in cui ai Barella, Brozovic e anche Cernoglu che girano a quei ritmi oggi Vidal mi sembra leggermente sotto ritmo rispetto agli altri detto che comunque si è reinventato in parte secondo me questa è la strada per la seconda parte di stagione per la volata finale sulla quale bisogna battere con Arturo Vidal meno Vidal dei vecchi tempi meno Vidal degli inserimenti in area di rigore e più Vidal ragionatore doppio playmaker o comunque giocatore che si va ad affiancare al Brozovic della situazione o al Barella della situazione per gestire palloni e smistare nell'uscita dal basso ieri qualche errore di troppo anche pesante diciamo che oggi lo mettiamo sotto la sufficienza però sono convinto che potrà rivelarsi un'arma utile se appunto inserito in questo contesto nuovo da non vecchio Vidal ma appunto in una nuova versione Ivan Perisic prestazione assolutamente top diciamo che l'anno scorso il discorso era prendiamo Barella lo mettiamo tra i top e poi valutiamo tutti gli altri quest'anno il discorso si è spostato su Ivan Perisic praticamente tra i migliori sempre in ogni occasione diciamo che sempre più ci sta mettendo in difficoltà nell'ottica del discorso rinnovo visto che molti dicono se chiede quelle cifre così elevate è giusto mandarlo via è giusto farlo andare via però questo Ivan Perisic di sicuro ci sta facendo un po' pentire comunque in caso di addio che non è ancora assolutamente scontato sarebbe un peccato perdere un giocatore così come quello che stiamo vedendo oggi veramente dominante troviamo poi Edin Dzeko io Edin Dzeko lo metto assolutamente tra gli MVP di questa partita mi permetto di metterne più di uno perché secondo me è stata una buona gara contro un avversario di buon livello e diversi giocatori hanno fatto prestazioni importanti tra questi sicuramente Edin Dzeko che oltre al gol preziosissimo dopo due minuti che ha indirizzato di fatto la gara ha dimostrato ancora una volta quella che è l'utilità nel gioco nella manovra di Simone Zaghi ha dimostrato ancora una volta il valore di un giocatore che apre gli spazi e permette agli altri giocatori di inserirsi e di approfittare dello spazio creato appunto da Edin Dzeko prestazione secondo me molto molto convincente e che apre anche delle considerazioni sull'attacco una matassa da sbrogliare che anch'io faccio difficoltà al momento a farmi un'opinione concreta e adesso ne parliamo prima però Alexis Sanchez lo metto sicuramente tra i top anche lui meriterebbe di essere a cavallo tra top ed MVP però lo tengo un livello sotto perché è vero che ha fatto un grandissimo gol è vero che ha fatto un grande lavoro però lo vedo ancora perdere qualche pallone di troppo qualche occasione che nel derby ci è costata cara si stava per ripetere in alcuni momenti anche in in questa partita contro la Roma però in generale alta prestazione molto molto convincente da parte di Alexis Sanchez Stefan De Frey lo metto tra gli ok nulla di rilevante secondo me da segnalare l'ho visto comunque in crescita rispetto al derby dove aveva commesso appunto un altro errore una serie di errori da cui arriva De Frey questa volta l'ho visto concentrato molto attento e ha limitato sicuramente i suoi avversari che comunque non erano comodissimi da tenere Lautaro Martinez qualche critica su Lautaro Martinez ma a me personalmente è piaciuto il modo in cui è entrato in campo avrei sperato in un gol perché avrebbe voluto dire sbloccare mentalmente un giocatore che ha molto bisogno secondo me della rete e noi abbiamo molto bisogno di Lautaro Martinez il gol non è arrivato però per me è stato un impatto abbastanza convincente sulla partita ci auguriamo che possa sbloccarsi presto a Cannes Cialanoglu è entrato nel finale lo mettiamo tra gli ok una grande giocata da highlights sulla fascia con un numero su Karsdorp che ha fatto infiammare i tifosi Denzel Dufris lo stesso lo mettiamo sugli ok anche lui non ha avuto molto tempo per incidere così come direi anche Mattias Vecino che lo lasciamo un po' senza voto ma lo posizioniamo lì e andiamo avanti queste sono un po' le mie valutazioni sui singoli fatemi sapere se anche voi siete d'accordo con questi voti io vi lascio con una domanda vi lascio con anzi due domande la prima contro il Liverpool chi vi aspettate in campo vista la squalifica di Barella tra Vidal Vecino e anche Gagliardini chi vorreste voi titolare sono curioso di sapere le vostre opinioni soprattutto però voglio leggere delle vostre riflessioni sulla questione attaccanti perché perché in questo momento io non credo che Lautaro Martinez possa diventare un'alternativa ai titolari la coppia Dzeko Sanchez ha fatto molto bene Inzaghi sembra non voler prescindere appunto da Edin Dzeko giocatore sempre molto molto importante però tener fuori un Alexis Sanchez in queste condizioni con questo impatto non è non è semplice probabilmente non so che ne pensate voi io comincio a pensare che da Lautaro Martinez ci si aspetta qualcosa in più debba essere lui il titolare e ad un certo punto la staffetta diventerà più tra Dzeko e Sanchez piuttosto che tra Lautaro e Sanchez questa è un po' la mia sensazione sperando poi anche di recuperare presto Correa e di vedere in campo Caicedo che potrà essere un'arma molto importante voglio capire però anche da parte vostra che sensazioni avete sull'attacco e su come verranno gestiti gli attaccanti da parte di mister Inzaghi anche in ottica Napoli prossima gara in calendario veramente importante per lo scudetto per il cammino dell'Inter in questa stagione vi ringrazio per avermi seguito fino a qui aspetto i vostri commenti in chat anzi nei commenti mi raccomando aspetto anche il pollice alzato se questo format con il tier maker vi piace oppure pollice all'ingiù diciamo se questo format non è di vostro gradimento fateci le vostre riflessioni voglio confrontarmi con voi voglio avere le vostre opinioni per appunto fare un bel punto della situazione vi ricordo che trovate il tastino abbonati per sostenere il nostro progetto se volete che Passione Inter continui a portarvi ogni giorno nuovi contenuti e dirette come facciamo sempre a raccontarvi tutto il mondo Inter a 360 gradi potete farcelo sapere potete sostenerci tramite gli abbonamenti qui sotto mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo in diretta come ogni giorno alle 19.30 e ci vediamo Grazie.